Con l'editore La Terza, Alessandro Conti e io, abbiamo pensato e strutturato questo manuale nell'orizzonte del problema dell'eredità. Solitamente quando si pensa all'eredità si pensa al passato, a un lascito, a un patrimonio da conservare e da custodire. Tuttavia il patrimonio, il grande patrimonio della filosofia, non è come una somma di denaro o qualcosa che si può assimilare automaticamente. Richiede un'attività, richiede un distanziamento dal passato per farlo proprio, per comprenderlo e appropriarsene. Tuttavia l'eredità ha un doppio volto, uno è rivolto verso il passato, ma l'altro è rivolto verso il futuro, verso le generazioni future. A questo proposito un'opera di Ernst Bloch, il filosofo del principio speranza non a caso, il quale aveva scritto nel periodo più buio della storia europea quando il nazismo avanzava, un libro intitolato Eredità del nostro tempo, dove cercava di scegliere, di individuare quegli elementi, quei semi, che nel suo presente potessero essere trasmessi senza vergogna alle generazioni future. Noi ci troviamo in una situazione in cui il presente è molto complesso, le generazioni future reclamano a gran voce dalle generazioni più vecchie delle scelte che li riguarderanno. C'è una situazione di asimmetria molto forte, le scelte che faremo noi le patiranno o se ne gioveranno loro. La gravissima crisi climatica, la richiesta di nuovi diritti, la biodiversità, ma anche la giustizia globale. Tutto questo la filosofia lo deve affrontare sul terreno che l'è più proprio, che è quello della discussione. È un termine questo premiante. Vorrei ricordare un'altra figura importante del Novecento, quella di Anne Arendt, la quale diceva che i fatti vanno rispettati innanzitutto. Innanzitutto accertare i fatti, ma i fatti non bastano, non sono tutto. I fatti vanno interpretati, discussi. Discutere non significa però reagire semplicemente con emotività idiosincratica o con il proprio giudizio inappellabile. Siamo abituati oggi, appunto, soprattutto sui social, a vedere reazioni di questo genere e non solo sui social, veramente. Ecco, la filosofia si colloca in un territorio di grandissima importanza ed estensione che si stende tra i fatti che possono essere dimostrati empiricamente e quindi non hanno bisogno, diciamo, di essere discussi e le reazioni più idiosincratiche. Tutto il resto deve essere discusso, a partire naturalmente dalla conoscenza dei fatti, ma l'immenso territorio che riguarda la nostra vita, cioè la politica, il diritto, la morale, le scelte estetiche, l'apparenza, insomma, del mondo, come avrebbe detto ancora Anna Arendt, riguarda il terreno della discussione, dove non si hanno prove schiaccianti, ma ci si cerca di persuadere a vicenda con argomentazioni possibilmente solide, valide, vagliate, pacate. Ecco, lo scopo, direi, principale del nostro manuale è quello di educare alla discussione i giovani d'oggi e le generazioni a venire. Si tratta appunto di selezionare nel presente in cui stiamo, in cui viviamo, gli elementi che riteniamo più validi. Ci siamo presi questa responsabilità, però ogni volta che abbiamo menzionato qualcosa ci siamo anche ripromessi di non semplificarla in nessun modo, ma di indagarla, di spiegarla, di chiarirla, anche con esempi arrischiati, se volete. Che uno studente ripeta che le monadi di Leibniz sono senza porte e senza finestre non ha nessun senso. Bisogna spiegargli che Leibniz non era un matto quando parlava di quelle cose, ma che erano problemi fortemente motivati a Leibniz, anzi era geniale nel formulare qualcosa di simile. Bisogna però spiegarlo per bene, a lungo, senza semplificare, senza accontentarsi di formulette da mandare a memoria per ripeterle all'interrogazione. E noi abbiamo accettato questa sfida e questo rischio, selezionando, filtrando, riducendo se volete il numero di problemi, ma tutti quelli che abbiamo menzionato poi li affrontiamo. E questo lo facciamo naturalmente sia nei capitoli dedicati a ciascun filosofo, a ciascun movimento, a ciascun periodo, a ciascuna scuola, sia attraverso degli apparati di cui andiamo abbastanza fieri. Pensiamo che siano riusciti e siano importanti per stimolare la discussione in classe, per far comprendere la realtà, la concretezza dei problemi. Quindi, oltre ad aver sottolineato, per esempio, alcuni elementi biografici dei filosofi trattati, che non devono apparire come figurine disincarnate, ma persone in carne e ossa che si confrontavano con il loro tempo, abbiamo progettato e realizzato una serie di sezioni pensate proprio per stimolare la discussione ben argomentata, la discussione critica. A partire da problemi toccati da un certo filosofo, nella sezione discutiamo insieme, ampliamo questi problemi facendo vedere in maniera mai pretestuosa la loro connessione con problemi dell'oggi, che siano legati alla letteratura, all'arte, al cinema, all'antropologia, alle scienze umane in generale e ad altri ambiti. Non solo questo, sappiamo che sempre più è richiesta oggi una conoscenza della nostra Costituzione, della cosa significhi essere cittadini e una educazione alla cittadinanza in forma di schede accurate è stata posta alla fine di molti capitoli, insieme a delle più lunghe, più estese sezioni intitolate impariamo ad argomentare, dove uno stesso problema viene messo in gioco tra diversi filosofi, per far vedere come ciascuno di essi ha argomentato la soluzione a questo problema, come è stato criticato da un altro filosofo e come il dibattito si è sviluppato a partire da questi elementi problematici messi in luce nel capitolo che precede queste sezioni. Andiamo particolarmente orgogliosi di una lunga sezione che copre soprattutto la seconda metà del Novecento. Invece di dedicare brevi paragrafi, piccoli capitoli a ciascun filosofo, senza poter spiegare niente, ma appunto menzionando soltanto opere, vite e problemi che non permettono di comprendere nulla, abbiamo deciso di affidare a persone molto competenti, a esperti filosofi della materia, dei capitoli che riassumono un panorama problematico, per esempio la filosofia a confronto con internet, i nuovi media, la filosofia a confronto con i diritti, i nuovi diritti, le esigenze, le elaborazioni teoriche avanzate dalle donne, i problemi legati alla bioetica, alle scienze cognitive, a particolari indirizzi del pensiero filosofico novecentesco. Sono delle vere piccole, chiare e ben pensate, ben strutturate monografie che io credo possano aiutare non solo a comprendere il panorama filosofico, intellettuale, culturale del nostro tempo, ma anche aiutare lo studente a sviluppare la capacità di mettere insieme questioni apparentemente eterogenee, anche in vista della nuova prova dell'esame di stato. Ecco, tutto questo è accompagnato infine da dei fascicoli che sono opzionali, ma che abbiamo curato anche questi con molta attenzione, dei percorsi antologici in cui la filosofia si confronta con le scienze umane, con la letteratura, con l'arte, con la matematica e le scienze, affrontando temi quali la creatività matematica, il problema del male, il tema della bellezza e i suoi cambiamenti nel tempo e così via. Io mi auguro che tutto questo lavoro, questo sforzo, venga corretto negli anni e incrementato dai suggerimenti dei docenti. Vorremmo sempre migliorare questi apparati, ma spero che intanto svolgano il loro compito, quello appunto di consegnare alle generazioni future gli strumenti e la capacità di discutere dei temi che più ci stanno a cuore.